Buongiorno, sono l'architetto Paolo Rava di Faenza, un romagnolo. Sono dell'Università di Ferrara, del gruppo di ricerca A e E, che sarebbe Architettura di Energia, e faccio parte della A4 Studio di Faenza, che è il mio studio professionale, dove lavoro con i miei collaboratori. Oggi, qui al convegno, ho parlato di una cosa molto semplice, che è questo edificio che abbiamo costruito con i miei collaboratori, che è il primo edificio a consumo zero, rischio zero, nella provincia di Ravenna, ed è un edificio storico vincolato e quindi la problematica era abbastanza significativa per riportare l'edificio storico a un basso consumo, con difficoltà che conosciamo bene, visto il tema legato al recupero energetico agli edifici storici vincolati. Quindi abbiamo fatto questo progetto, molto importante questa prova, per riuscire a far diventare un edificio vincolato a consumo zero. La cosa molto importante è un po' la strategia, la strategia di utilizzare materiali compatibili, poi con la storiografia degli edifici e delle tecniche costruttive del settecentesche, è un edificio del settecento, e quindi pensate bene alla difficoltà dei ponti termici oppure l'utilizzo di materiali coibenti che fossero compatibili. Io dico materiali che si innamorassero con la tecnologia antica. Abbiamo usato null'altro che materiali legati alla nostra tradizione, però portati alla tecnologia contemporanea. Non possiamo partire da assiomi legati alla tradizione pura, ma portare le grandi tecnologie e le grandi conoscenze che abbiamo adesso al sistema di tradizione. Quindi abbiamo usato la fibra, la fibra prodotta dal comparto vicino alla città, che è il comparto rurale. Quindi materiali a consumo zero, materiali a chilometro zero. La fibra della canna palustre. Canna palustre in sezioni molto spesse, naturalmente, 20 cm di cappotto termico in canna palustre agganciata alle motore originarie, danno la facoltà con un sistema interno di argilla cruda, quindi di materiali che hanno un sistema coibente, una massa compatibile. Questo regime estivo risolto in questa maniera con la massa, mantenendo l'energia dell'edificio stesso. Cioè, caso per caso, mettiamo delle strategie legate alla metodica costruttiva del tempo. Quindi non andiamo ad alterare la modalità di riscaldamento o di raffrescamento di un edificio antico, ma cerchiamo soltanto di aumentarne le prestazioni. L'altra idea interessante è quella di utilizzare che cosa? Che un edificio non deve essere scaldato, ma è l'uomo che deve essere scaldato. Quindi noi andiamo a mettere degli impianti in maniera molto piccola, legato al fatto che l'impianto radiante va a deletto contatto con le esigenze dell'uomo. Quindi non andiamo a riscaldare gli edifici. Da sempre l'architettura non ha scaldato gli edifici, ma ha scaldato l'uomo. E quindi ho parlato, appunto, in questa giornata, degli edifici storici, come venivano scaldati, come venivano progettati, e il perché un edificio storico è straordinariamente un edificio a consumo zero, legato al fatto che è l'edificio stesso che diventa impianto. Quindi questa modalità diventa un po', secondo me, il futuro della ricerca architettonica e dobbiamo trovare il modo che, con questi sistemi di recupero energetico legato alla tradizione, utilizzando però le modalità contemporanee, arrivare a rigenerare la città, rigenerare gli edifici, rigenerare quel comparto residenziale che serve all'uomo per poter vivere se stesso in comunità, senza andare ad ampliare le città all'esterno, utilizzando quindi dei terreni che invece devono essere lasciati tranquillamente ad essere coltivati o a poter essere, come posso dire, utilizzati in maniera consona, cioè anche per il tempo libero.